La Turris espugna lo stadio Zaccheria di Foggia e conquista così la prima vittoria in campionato. Le squadre si affrontano a viso aperto in linea con le idee di gioco e mentalità dei due tecnici Caneo e Zeman. I Coralini partono bene con due azioni pericolose al primo e al tredicesimo minuto con Santaniello che arriva al tiro grazie all'iniziativa del tridente composto con Gennone e Leonetti. I padroni di casa cercano di rendersi pericolosi con i classici dagli del 4-3-3 Zemaniano ma ben assorbiti e controllati dal trio difensivo Lorenzini-Manzi esempio. A 42esimo minuto finalmente la prestazione della squadra di Caneo viene premiata grazie all'ennesima azione d'attacco con Santaniello, ottimo nella doppia funzione di terminale offensivo e regista avanzato tirandosi fuori dalla linea difensiva foggiana creando spazi dove si è inserito egregiamente Tascone che con un diagonale ha trafitto il portiere foggiano a lastra. Nel secondo tempo il tecnico Boemo nei primi minuti cerca di sovvertire l'andamento della gara con tre cambi e ci riesce parzialmente collezionando un paio di ghiotte azioni da rete neutralizzate dal portiere Corallino Perina. Al sedicesimo minuto di partenza fulminia della Turris, Giannone serve un assist al bacio per Santaniello che mette la palla in rete per lo 0-2 che si gira la prima vittoria Corallina e che porta la Turris a 4 punti dopo 3 partite. Il match si spegne con pochi sussulti da una parte e dall'altra grazie alla prestazione di una Turris autoritaria, audace e bilanciata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.